Nome e cognome, cosa ti aspetti da questo viaggio? Allora, sono Anita Rizzi, vengo da Barletta, da questo viaggio mi aspetto tanto, vorrei riempire il mio bagaglio culturale di nuove notizie e fare tanta esperienza con la Lookmaker Academy. Come è andato il casting? E' andato molto bene, sono soddisfatta del risultato, ovviamente si può dare sempre il meglio di noi stessi, però tutto sommato sono soddisfatta. Sei soddisfatta di questa esperienza? Tantissimo, sono cresciuta molto sia dal lato personale che dal lato professionale. Cosa porti a casa di questo viaggio? Un grandissimo bagaglio culturale di nuove notizie e di persone stupende. Grazie. A voi.